ed ecco l'occorrente per creare il nostro vasetto in corda bellissimo una ciotolina da cui prendere l'orma del vasetto più arcuata sarà la curvatura in prossimità della base meglio verrà il vostro vasetto un contenitore da riciclo così tubolare che abbia lo stesso diametro della base della ciotolina della corda dello spessore che più desiderate pistola per colla a caldo e relative stecche un paio di forbici e cominciamo subito come prima cosa creiamo una rotellina con la corda della stessa dimensione della base della nostra coppetta arrotoliamo a mo' di chiocciolina la corda e fissiamola con un punto di colla a caldo possiamo anche abbondare di colla a caldo perché tanto la faccia in cui metteremo la colla non sarà in evidenza non si vedrà quindi andate tranquilli ma state sempre attenti a non bruciarvi continuiamo ad arrotolare e di tanto in tanto diamo un punto di colla per raccordare i vari giri arrivati alla grandezza della base della ciotolina cominciamo ad arrotolare il filo addossandoci proprio alle pareti della ciotolina e discendiamo lungo tutto il corpo della ciotola ricalcando nell'orma di volta in volta diamo un punto di colla a caldo nel margine superiore dello spago da fare agganciare a quello sovrastante e passo passo ricopriamo tutta la ciotolina ogni tanto con le forbici staccate il manufatto dalla ciotolina perché la colla a caldo tenderà a farlo rimanere agganciato quindi ogni 5-6 giri provvedete a staccarlo dalla porcellana facendo leva con un paio di forbici procedete così fino al bordo della ciotolina man mano che costruirete la vostra ciotola di corda assicurate nell'interno con delle striscioline di colla a caldo che prendano tutti i giri della corda fate delle rette che agganciano tra di loro tutte le cordicelle e voilà e non vi preoccupate di sporcare perché tanto l'interno del vasetto non si vedrà ok ultimato di coprire tutta la ciotolina stacchiamo la ciotolina di corda dalla ciotolina in porcellana e mettiamola un attimo da parte e voilà guardate che carino anche solo come svuota tasche adesso ricomincio ad arrotolare la corda attorno alla ciotolina però partendo dalla circonferenza della base quindi lascio il foro aperto in alto perché quello dovrà essere il foro del nostro vasetto saldo il capo della corda al primo giro e poi come prima giro su giro ricopro tutta la ciotolina saldando con colla a caldo i vari giri di corda di volta in volta stacco dalla ciotolina aiutandomi con le forbici e a metà del lavoro saldo dall'interno tutti i giri di colla sempre con le righine di colla a caldo arrivati alla fine ultimo il lavoro voilà e saldo dall'interno i giri che ancora non avevo assicurato con la colla a caldo adesso prendo la misura del contenitore interno che dovrà fungere da anima del vasetto quella entro cui andrà versata l'acqua prendo la misura dell'altezza e taglio il recipiente a misura lo fisso con abbondante colla a caldo sulla base del vasetto di corda e adesso unisco le due parti del vasetto stando attenta che i capi di corda delle varie parti combacino perfettamente e mettiamo da parte il nostro vasetto adesso facciamo una bella e lunga lunga trecciolina di corda perché addorneremo il nostro vasetto con una bella treccia che useremo come ornamento farò circa un metro di treccia che poi assicurerò sul retro con della colla a caldo cosicché tagliandola non si disfaccia e rimanga sempre a forgia di treccia prendo la misura dell'imboccatura del vaso e taglio il pezzo di treccia che mi serve e che nel frattempo vado ad appiccicare poi faccio una decorazione a lungo tutto il bordo del vasetto quindi taglio la trecciolina e aggancio i due capi della treccia all'imboccatura del vaso sotto la treccia con cui ho ornato l'imboccatura in modo da celare l'incipit la treccia come vi dicevo non si disfa perché sul retro ha una linea di colla a caldo che la tiene intera e voilà ecco il nostro vasetto con una bella talea di potos da far sbocciare e germogliare non è bellissimo etnico rustico è molto romantico per la decorazione di casa vostra ci vediamo al prossimo video e se questo ti è piaciuto lasciami un like e condividilo sulla tua pagina facebook grazie e ciao